e ragazzi come va? Io sono Fereniki e io sono Steph e questo oggi giocheremo a The Sims 4 e iniziamo subito a salutare i nostri 5 eroi del giorno che per oggi sono Luca003, Laura Styles, Chiara34, Pietro e Lorena Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione Ci teniamo subito a specificare che questo video di The Sims 4 non ha nulla a che vedere con la nostra serie di The Sims bensì è collegata alla nostra serie di Youtubers Live E infatti come potete vedere perché dai sono uguali, sono uguali Hai fatto davvero un'opera d'arte Ho fatto un capolavoro, abbiamo ricreato Stereniki e Testa per poterci finalmente prendere la nostra vendetta sul fatto che lei ci ha lasciato proprio in un modo terribile e appunto per questo vorrei ringraziare soprattutto Sam Kawai e Alessia che ci hanno dato quest'idea geniale per realizzare il video Io non appena l'ho letta mi sono subito messo a ridere perché è davvero geniale perché su Youtubers Live ragazzi non avevamo modo di vendicarci in nessun modo mentre su The Sims possiamo farne di tutti i colori Eccoli, eccoli, dopo aver visto un film stanno andando alla sauna dato che Stereniki l'ha invitata ad andare a vedere che cosa ha costruito di bello e Testa è felicissima Non sospetta di nulla, guardala, è proprio contenta Non sospetta di nulla, sarà davvero divertente Io adesso voglio vedere cosa potrà succedere Guarda, va proprio in corsetta, è felicissima Non vede l'ora perché comunque, cioè scusami, anche io vorrei andare in una sauna a rilassarmi Tu non vorresti andare in una sauna, cioè se tu vai a casa di qualcuno e ti dice guarda che nel giardino ho costruito una sauna, cioè staresti felicissimo È una cosa fighissima Ok, vediamo Guardali E si siedono a fare la sauna Sono felicissimi e super rilassati, ma non sanno una cosa ragazzi Che al piano di sopra c'è qualcun altro, guardate un po', la riconoscete? È similissima anche lei, dai, è similissima, è Diana Perché sì, abbiamo ricreato anche Diana Che ovviamente sarà la nuova ragazza di Stere Niki E faremo così in gelosire tessa Prima ovviamente di farla fuori Esattamente Non si aspetta di nulla Cattiveria pura, cioè capito Lei su Youtubers Life ci ha mollati solo perché non siamo voluti andare al party con lei E questa direi che è una vendetta cattivissima Cioè che peggio di così non le possiamo fare Io mi chiedo com'è per pensare ogni volta a queste cose No, non le ho pensate io stavolta E chi le ha pensate? L'idea del tradimento l'ha pensata Alessia Non sono stata io Dell'uccidere però scusami No, no, no Quella l'hai aggiunto tu Allora, no Perché c'è stato Sam Kawai Ok Che ha detto di far fuori tessa Ok E poi Alessia che invece c'è detto di farla in gelosire Tradendola davanti ai suoi occhi Quindi tu hai combinato le due cose diciamo No, diciamo che io ho trovato dei collaboratori perfetti E capito? Hanno superato il mio modo di pensare E hanno trovato un'idea ancora più malvagia Guardali, 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 guardali La situazione si sta facendo piccante Tessa non l'accetta Guarda, si è spostata E guarda loro due Guardali Non sa più dove guardare tessa Non sa più dove guardare Tenevich è proprio intraprendente Hai visto come si trova ragazza? Noi pensavamo fosse rimasto triste per l'abbandono di tessa Invece guarda come si riprende Era arrabbiato anche lui Voleva vendicarsi e poter stare con Diana è la cosa migliore Comunque dobbiamo fare una cosa Dobbiamo chiederle se vuole diventare la sua fidanzata Così tessa finirà di impazzire assolutamente Questo è proprio il colpo che chiude tutto Il colpo di grazia Esatto Guarda, guarda Spam Vediamo Dai che ce la fai Sono curiosissima Come glielo chiederà? Ok Guarda Credo che mi ha accettato Sono felicissimi quindi penso di sì Attenzione Ha accettato Penso di sì, non lo so Penso di sì Ok sì 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 Sono diventati fidanzati Perfetto Adesso c'è un'ultima cosa Cosa vuoi fare? Il primo bacio No E scusami L'affronto peggiore che tessa potrà vedere Serenica è diventato flertante Attenzione Attenzione Guarda Vai Il loro primissimo bacio Vai Andiamo a vedere la fascia di tessa Ti prego andiamo a vederla Continua non credeci Guarda sta guardando altrove Tipo cosa ci faccio? Ma cosa sta succedendo? Non capisco Sorrido ma sono arrabbiata Esatto Non capisce quello che succede Ma adesso Sono felicissima Sono davvero troppo troppo felice Adesso c'è un'altra parte Adesso arriva la parte più difficile Forse anche più crudele del nostro piano Decisamente Noi Se non era già crudele questa parte Questa la diventerà tantissima Infatti sai cosa facciamo? La chiudiamo Chiudiamo questa bella porta Dentro Chiudi per tutti Tranne Serenichi Così non può neanche essere salvata In nessun modo Magari capito Le vengono i sensi di colpa Cerca di salvarla Ma non lo potrà fare E Serenichi ovviamente non lo farà mai Esatto Loro se ne vanno tranquillamente A guardarsi un altro bel film Nello stesso divano Con cui era insieme a Tessa Poco fa Proprio Cattiveria pura Li lasciamo qui Cattiveria pura E adesso Obblighiamo Tessa A continuare a farsi la sauna Fino a quando non inizierà A sudare E soffrire Guarda Tessa È già infastidita Per il fatto che sta Rimanendo troppo nella sauna Ma sai qual è il nostro vero obiettivo? Ah Si vaporizzano anche i sim E spariscono per sempre Guarda sta soffrendo tantissimo Sta soffrendo troppo Ha una cascata di sudore Da quanto sta sudando Dal caldo Poverina Però non riesco a non ridere Mi dispiace Perché mi ha fatto troppo arrabbiare Su Youtubers Life E non riesco A non ridere Cioè guardala Guarda quanto soffre E adesso sicuramente Vedi Uh guarda È morta Si è vaporizzata Guarda È rimasta solo La sua urna Si è vaporizzata Questa cosa È davvero terribile Aspetta Ok guarda Questa è l'unica cosa Che rimane Di Tessa Vedi Tessa la traditrice Rip Bellissimo Questa deve essere La copertina del video Perché davvero Tessa la traditrice Rip È un capolavoro Assoluto Ti è piaciuto anche il nome Come l'ho scelto Perché bisognava sottolineare Il fatto che È una traditrice E possiamo dire Che ci siamo Liberati per sempre Di Tessa Finalmente Stereniki non soffrirà più Finalmente Stereniki È felice con Diana E non ci sono più problemi E ti dico una cosa Spero che poi Su Youtuber Life Non verrà morlato Anche da Diana Altrimenti dovremmo Far fuori Ci sarà la parte 2 Nel caso ragazzi Quindi dovete sperare Che Diana Sia una brava ragazza Come dice di essere Ragazzi il video Mi piace così Se è piaciuto Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdere gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.